Mi chiamo Claudio Silvestri e sono il cuoco della nazionale di calcio. Certo, una volta fatta l'alberghiera sperava almeno di finire in un villaggio, lì la sera si infila. Mi chiamo Claudio Silvestri e sono il cuoco della nazionale di calcio. Mi chiamo Claudio Silvestri e sono il cuoco della nazionale di calcio. Certo, a me il pallone non mi garba nemmeno, io sono fissato il motore. Devi dire una gran bella responsabilità. Una gran bella responsabilità, io devo scegliere per loro l'alimentazione più completa, giusta e equilibrata. Certo, se poi in stanza si fanno la carbonara, se ci sto a fare, già mi danno una sega di soldi. No, leggi Gobbo. Al mattino non ho dubbi, frutta, latte, pane. Se dico marmellata va bene, guarda. No, no. Al mattino non ho dubbi, frutta, latte, pane e... come si chiama? Al mattino non ho dubbi. E poi vedi come corrono a fare colazione. E poi finalmente faccio colazione anch'io. Chiamo Lippi, si apre un po' di vino, si beve. Perché Lippi è uno... Trinca. Stop, non lo devi dire. Non si può dire. Al mattino non ho dubbi. E poi vedi come corrono. Sono campione del mondo. E anche sotto la doccia faccio la mia figura. Tutti mi fanno. Ma quel mestolo è di legno, no? È mio. Stop, stop, stop!